Io parlo in burro, io lo so, ci parlavo perfettamente, voi siete napoletano. Io so, io posso favorire la scelta napoletana, potremmo fare un teatro. No, facciamo tutte le interviste. Eh, vai, continuiamo così, direttore. Eh, che bellezza, una donna tua, Carmen. La canzone, io ci volesse chiarire. Un ospite e due gin tonic. Questa è Gintoneria. Immergiamoci. Buonasera amici, benvenuti a un nuovo episodio di Gintoneria Podcast. Oggi, come vedete, è una cornice diversa dallo studio. Siamo per la prima volta in trasferta e per me è un grande onore intervistare oggi il direttore Vittorio Feltri. Grazie, per me è un piacere. Piacere mio e grazie per l'ospitalità. Noi ci mancherebbe. È un po' al contrario. In ogni intervista, direttore, io cerco di riportare l'ospite un po' alla sua gioventù, perché nel raccontare una storia di vita o degli episodi... Ma è talmente lontana la mia che non so cosa potrò ricordare. No, secondo me ricorda molto bene. C'è un suo libro, Il Borghese, in cui si riferisce a se stesso come un ragazzo magro, taciturno... Non è che adesso sia un parcione. Esatto, ho mantenuto questa caratteristica nel tempo. Voglio tornare un po' a Bergamo nella sua adolescenza. Che ragazzo era, cosa leggeva, che spunti traeva, che interessi aveva? Diciamo che la mia infanzia è stata abbastanza tribolata, perché mio padre morì quando io avevo sei anni. Mia madre aveva altri due figli, i più grandi di me, e quindi il poveraccio ha dovuto lavorare tutta la vita per mantenerci. Quindi la situazione non era delle più brillanti in casa nostra. Anche, diciamo, gli introiti economici non erano mai a sufficienza. Per cui, finite le medie, che allora erano una cosa seria... Oggi un tantino meno? No, allora studiavamo il latino e in terza media traducevamo il dappello gallico, tanto per farci capire. E quindi ho cominciato a lavorare. Siccome non avevo imparato alcun mestiere, feci il fattorino in un negozio di cristal ceramiche, dove rimasi circa un anno e dovevo portare in giro i pacchi alle famiglie che avevano fatto degli acquisti. Sì, non era, diciamo... Il lavoro dei sogni. Il lavoro dei sogni, però era sempre meglio che non fare niente e quindi prendevo un piccolo stipendio. Dopodiché, invece, sono riuscito a passare in un negozio di abbigliamento dove facevo l'apprendista commesso. Però nel frattempo ho fatto un corso serale, quindi una fatica mostruosa, per vetrinista. Allora i vetrinisti non ce n'erano, erano i primi che uscivano. C'era molto lavoro, quindi? C'era moltissimo lavoro e io facevo moltissime vetrine e guadagnavo un botto di soldi, pur essendo giovanissimo. Perché ricordo che ogni vetrina era 5.000 lire, io ne facevo 4 o 5 al giorno. Allora, 20.000 lire al giorno. Al giorno erano tantissimi. Quando sono riuscito a risparmiare circa un milione e mezzo, perché non è che spendessi per me chissà che cosa, che cosa fessi, smesi di lavorare e mi rimesi a studiare. Però come privatista. Che era quello che l'animava un po' di più, no? Ho letto che lei ha letto a 13 anni Le notti bianche di Soiesi, che era un po' animata, è stato un po' il libro che le ha cambiato la vita. Sì, sì, mi ha aperto un po' il cervello. E quindi l'ho ripreso a studiare e poi avevo come insegnante, chiamiamolo qui, precettore si diceva una volta, un monsignore che era un insegnante del seminario. Mi insegnava una materia che adesso non c'è più, eloquenza. E lui mi parlava o in bergamasco o in latino. E quindi sono stato costretto a imparare il latino. E ho mantenuto. E devo dire che è facile imparare le lingue quando si sentono, quando si studiano. Per cui, vabbè, poi feci la maturità e mi ricordo che la mattina, il giorno precedente, avevo fatto la traduzione di un brano di Livio. Sì. E la mattina dopo, quando andai a fare l'esame, mi dettero la stessa versione. E allora? E quindi la feci in dieci minuti, perché la sapevo perfetto. A memoria. Quando la consegnai al professore, mi diceva, ma sei scemo, come mai? E no, l'ho fatta ieri. E lui mi ha risposto a testuare, c'hai un bel culo. E devo dire che poi il culo mi ha accompagnato per tutta la vita. Questa, l'ho sentita, lei si riferisce al culo anche dandole del santo. Sì, san culo. San culo è bello. In cosa l'ha avvitata di più la sua vita, san culo? L'episodio più... No, tutto. Nel captare anche, arrivare alle cose nel momento giusto, le opportunità. Sì, le cose giuste, poi mi ha portato fortuna. Non c'è un episodio, c'è una vita che è stata affortunata. Un'inerzia positiva. Sì. C'è un episodio, che lei ha raccontato più volte, non vuole entrare troppo in una speranza intima, la sua prima moglie. E lì è stata un po' una tragedia, perché aveva 24 anni. Era incinta di due gemelle. Ma allora non c'erano i mezzi tecnici per sapere se avesse in grembo uno o due bambini, non si sapevano niente. E quando ha partorito, ha avuto una crisi eclampsica, molto grave, per cui è morta. E io sono rimasto lì con due, con due bimbette. E questo non lo devo attribuire a San Cullo. Però San Cullo mi ha dato una mano che mi ha fatto disposare dopo poco tempo con una signora che mi ha salvato la vita. Questo l'ha detto più volte e è importante, ha un valore anche nel corso del tempo. Rispetto a questo episodio, volevo chiederle, essere padre, diventare padre così giovane, anche vivere una circostanza tragica, l'hai dato poi una motivazione in più nel lavoro per farcela, per impegnarsi ancora di più, perché vado a mantenere. No, mi sarei impegnato allo stesso. Allo stesso modo. Perché poi i miei stipendi, grazie a San Cullo, sono sempre stati piuttosto elevati e quindi non ho fatto alcuna fatica, in sostanza, a mantenere la baracca. Anche perché poi ho avuto altri due figli, dalla seconda moglie, quindi in totale fanno quattro. Siccome però non mi bastavano quattro, ne ho adottato uno, e fanno cinque. È un numero che mi piace di più. Sì? Cifra di dispari più piaceva. Sì, il cinque è un bel numero. Sono d'accordo. Anche il tre, non so se le piace. Sì, a me piace. Ha parato lei di lavoro, a un certo punto il giornalismo si fa presente nella sua vita, inizia l'eco di Bergamo. C'è una parte della sua vita che poi l'essere direttore, anche la percezione che la mia generazione ha di lei, o suisce nel ricordare che lei è stato un inviato, ha fatto tanta gavetta, ha vissuto tanti giornali, tante redazioni. L'inviato è stato il mestiere che mi è piaciuto di più. Immagino. Perché ero il Corriere della Sera, un grandissimo giornale, mi mandavano sui fatti importanti e li facevo volentieri. Io non ho girato il mondo, ma mezzo mondo l'ho girato e devo dire che mi ha aiutato a capire una cosa, che l'Italia è il paese migliore. L'Italia è il paese che amo, disse a un certo punto un uomo in Italia nel 94. Sì, giustamente. Ed è effettivamente vero. Infatti lei non viaggia molto? Non viaggio più, ho girato il mondo, ero sempre in giro, con valigie e cose. Però è il posto più esotico? Adesso è il posto più esotico il Barbasso. Che comunque è un bel ritrovo. Sì, comunque è qui a 500 metri. E in passato invece dove, un posto che ricorda le è piaciuto particolarmente? No, non sono mai stato un turista, non amo fare le vacanze, non le faccio, perché tanto riesco ad annoiarmi benissimo anche a Milano senza andare a Cortina o a mare. e poi io non ho mai messo il piede nel mare, perché mi fa schifo. So anche perché. È una teoria. Sì, sì, perché nel mare ci scaricano di tutto. Di 8 miliardi di persone tutte le mattine. Lo evitano? Nessuno puntuale. Sì, sì, con una puntualità svizzera. Sì, sì. Si ricorda la sua prima cronaca, la prima volta che è stato inviato, dov'era? Sì, era un paesino vicino a Bergamo, lavoravo a Lecco, un ragazzo di 14, di 15 anni, 16 anni, aveva ammazzato una compagna di 14 anni, quindi certi fattacci succedevano anche una volta. Certo. Non è vero che... E quindi feci un pezzo, diciamo così, un po' col cuore, no? e quindi me lo ricordo benissimo. Anzi, una volta mia figlia mi ha portato una fotocopia che era ingiallita, perché figuriamoci. Quando l'ho riletto, mi ha detto, ma però... Sì, non era niente di eccezionale, però l'ha ben fatto. Un certo fascio. Strutturato. Le donne è sempre piaciuto, anche a lei le donne sono in qualche modo sempre piaciute. A me certo, non mi piacciono di sicuro gli uomini. Questo evidentemente. Cosa guarda per prima cosa in una donna? No, non c'è una priorità, è il complesso di una persona. Ti piace, ti piace. Non è che ti piace per gli occhi, per il culo, per qualcosa, qualcosa altro, insomma. Ti piace in genere. E' d'accordo che è molto meglio dialogare e conversare con una donna che con un uomo? Non c'è il minimo dubbio. Gli uomini ti rompono le scatole, vai a cena con un uomo e comincia a lagnarsi perché guadagna poco. Poi quando ha finito comincia a romperti le palle con il calcio. Insomma, è sempre la stessa. Io veramente non ne posso più. Invece con una donna, poi devo dire che le donne negli ultimi 30 anni, da quando hanno cominciato a frequentare l'università, perché prima erano pochissime quelle che accedevano all'università. E adesso loro naturalmente si impegnano di più perché vogliono dimostrare non solo agli altri, ma anche a se stesse di valere. Hanno questa esigenza di non stare a se stesse e di essere bravi. E quindi studiano molto meglio di noi. Hanno una ricchezza di vocabolario maggiore rispetto alla nostra, mediamente. tornando all'eloquenza. E poi, diciamo, il loro impegno è incredibile. In politica oggi abbiamo due leader dei principali partiti che sono due donne. Che ne pensa di Meloni e Schlein? Come sta governando? Meloni mi è sempre piaciuta anche quando non era premier, eccetera. Mentre la Schlein si dice così. Corretto, non parlo bene tedesco che dobbia origini austriaca. Schlein, a parte che non mi, dal punto di vista fisico, non mi piace neanche un po'. Quello non vuole niente. E poi, per quanto riguarda il resto, non ho ancora capito che cosa voglia, dove voglia andare, con chi, e quindi non riesco ad apprezzarla in modo particolare. Se poi faccio il conto che il PD è comunque una derivazione del vecchio Partito Comunista che non ho mai sopportato, quindi tutto questo non me la può rendere molto simpatica. Però magari, non stanno le simpatiche con il Partito Comunista, non giovando alla sinistra la Schlein sta compiendo una missione per far scomparire il Partito Comunista. Mi pare che si stia impegnando, sì. E questo le fa piacere tutto sommato, come autodistruzione. Sì, sì, abbastanza. Torniamo alla sua vita da inviato. Uno dei casi che poi l'ha reso particolarmente nota al grande pubblico è il caso Tortora, di cui ha parlato in diverse occasioni. C'è un aspetto però che mi manca. Ho letto un po' di sue interviste quando ne ha parlato in vari contesti. Lei è stato tra i più grandi sostenitori della sua innocenza e anche poi è entrato in contatto con Tortora. Cosa lasciava trappelare Enzo Tortora rispetto all'ingiustizia giudiziaria subita? Che persona era rispetto all'ingiustizia? Come tutti gli innocenti non sanno difendersi. Sono indignati dal fatto di essere sospettati di una cosa e quindi reagiscono non lucidamente, quindi con poco raziocinio e pertanto l'effetto è che sembrano colpevoli. e questo valeva anche per Tortora. Dopodiché però i fatti erano dimostrati. Assolutamente. Però anche in altri casi ho potuto constatare che è così. L'innocente è talmente anche indignato, talmente sorpreso di essere accusato per una cosa che non ha fatto che non riesce a difendersi, non lo fa con raziocinio. È paradossale ma... È paradossale ma e ho constatato che è così. Le sembrava ferito nell'orgoglio Enzo Tortora? Eh va bene, ci ha portato via e manette. Però lei la difesa spadatratta in quel periodo ha vissuto anche a Napoli. Molti la tacciano di essere contro il Meridione però quando ci siamo incontrati... Questa è una palla perché io sono cresciuto peraltro poi nel Meridione. Io ho frequentato per molti anni il Molise perché una sorella di mia madre abitava lì a Guardi Alfiera in provincia di Campobasso un bellissimo paesino dove lei e il suo marito gestivano un feudo e quindi io... È molto legato. Lavoro lì. E fra l'altro mio zio aveva dei cavalli perché allora non esistevano neanche le motociclette in quel paesino c'era una miseria assoluta e quindi io ho anche imparato da mare i cavalli infatti poi ne ho posseduti tanti. Ha fatto anche equitazione mi raccontava da anni equitazione e anche pipica. Ah ok. Sì sì vabbè così. È sempre stato uno sportivo anche calciatore in gioventù no? Sì sì ho fatto anche scherma un po' di tutto. Ho sentito dirle in più interviste che preferisce gli animali agli umani. allora evidentemente. Lo vedo anche col gatto ciccio ci dorme ancora con il gatto ciccio? sempre tutte le sere aspetta che io esca da questa stanza dopo aver zianato e lui proprio mi tiene mi tiene d'occhio mi segue sale sul mio letto fa un ciambellone in fondo a sinistra e fino alla mattina non si muove. Straordinario. Mi piace moltissimo. Che interazione c'è con gli animali così particolari? Perché poi lei ama molte. Mi piacciono. Mi piacciono e poi certo non sopporto quelli che fanno lo del male. Questo. Adesso prendiamo e mi hanno ammazzato l'orso mi sono incazzato. E contro caccia e pesca sportiva? contro caccia poi non si parla imbecilli perché il divertimento è andato in giro con il fucile a sparare un poveraccio che sta volando per esempio o una lepre ma dove è il gusto dove è il piacere? Con un volo con la parola volo con un volo pindarico torniamo alla direzione parlavamo prima di lei come inviato tanti giorni diversi siano il Corriere l'informazione del Corriere della Sera poi la conosciamo lei è il direttore il direttore Feltri e per tutti ho sito alcuni riviste ne ho dialetti nove quindi è un bel numero penso sia un record assolutamente in Italia penso proprio di sì le successi dell'europeo dell'indipendente l'hanno portata poi al giornale mi racconta nel 93 il primo incontro con Berlusconi ad Arcore quando è andato la prima volta lì ad Arcore devo dire che ho trovato un uomo normale certo non si dava aria né niente io sono andato in casa sua e subito mi ha parlato della crisi politica che già c'era perché qui noi passiamo da una crisi all'altra certo e mi ha confidato che avrebbe voluto fondare un partito e poi mi chiese ma lei a chi lo farebbe guidare ha segni mi dice segni allora uno come segni non gli affiderei neanche il cane per fare la pipì certo per l'amor di Dio allora dice ma Martinazzoli Martinazzoli è bravissimo però è un cipresso è un cipo funerario ma quel piglio da politico può fare guidare un partito può fare il politico ma non guidare un partito e mi dice ma allora chi metterebbe io metterei lei perché metterei lei perché ho fatto un sondaggio quando ero all'europeo per sapere qual era l'uomo più stimato in Italia ed era lui evidentemente certo e quindi non ho fai i dubbi era bravo a persuadere Berlusconi a vendere anche nel privato incredibile e poi naturalmente abbiamo parlato del del nome del partito del partito ma non gli ho detto niente no se ci dicesse che l'ha pensato lei sarebbe uno scopo incredibile no adesso gli dico peggio che l'ho pensato io è successo questo che io insieme con Zenga il portiere ve lo ricordo certo Walter Zenga faceva una trasmissione sulla televisione di quello che aveva un'azienda di latticini mi manca non ho riferimenti devo dire no no che poi è stato avuto dei problemi giudiziari Cragniotti no? no non Cragniotti è famoso era più famoso ah Tanzi 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 Latticini sì sì e quindi facciamo questa trasmissione il cui titolo era Forza Italia e lui ce l'ha ciulato hai capito Berlusconi si è appropriato la trasmissione ma gli è tornata bene anche lui sanculo l'ha evitato con il nome chiamalo scemo assolutamente secondo lei si è parlato tanto di Berlusconi che è stato così totalizzante nella storia d'Italia qualche sfumatura privata che spesso non è colta della sua persona ma diciamo che per o meno con me era molto molto gentile direi affettuoso e poi io non posso parlare male di Berlusconi perché mi ha fatto diventare ricco quindi sarei un coglione certo direi se non altro per rispetto del lavoro direi evidentemente direttore quali sono stati gli anni più belli della sua carriera di lavoro gli anni in cui si è divertito anche di più a fare il suo lavoro non mi dica quelli da inviato perché poi quando fai il direttore fai sempre delle grane la paura di perdere copie vivi sempre un po' nell'angoscia come tutti quelli che guidano qualcosa hanno paura di scontrarsi la responsabilità è preoccupazione invece quando ero a raccogliere che facevo un inviato avevo solo soddisfazione è vero che una volta si era vestito da lavavetri quando era inviato andava un po' in incognito no non ho mai fatto travestimenti però le piaceva andare anche in incognito scoprire il popolo quello sì ho fatto tanti servizi facciamolo dal vivo certo e quindi com'è cambiato anche un po' il giornalismo nel corso del tempo da che lei si è completamente trasformato ed è caduto per un motivo semplice che i giornali non vendono più copie le elicole sono chiuse quasi tutte non tutte ma quasi tutte per cui le aziende editoriali incassano pochi soldi incassando pochi soldi pagano poco i giornalisti e quindi tutta la qualità è decaduta è decaduta se poi ci aggiungiamo che i cosiddetti social la fanno da padroni sul mercato ecco che diventa molto difficile avere della qualità nella carta stampata se nascesse oggi avrebbe piacere a fare il giornalista o la cominci a meno secondo me è troppo improbabile che io rinasca è un'ipotesi che non ho mai considerato certo per me è stato un mestiere divertente che mi ha dato molta soddisfazione oggi si arranca si arranca quindi non so cosa farei direttore ha mai pensato sinceramente di diventare Presidente della Repubblica anche solo per un anno lo so che è stato votato no ma io piuttosto che fare il Presidente della Repubblica faccio lo spazzino perché l'idea di essere chiuso al Quirinale a ricevere tutte con le teste di rapa che arrivano a fare dei discorsi sempre gli stessi banali se no io non vorrei mai ho avuto dei rapporti personali con alcuni Presidente della Repubblica sono diventati sui amici con Cossiga con Cossiga ero diventato amico e l'ho fatto diventare giornalista facevo scrivere su Libero lui ci teneva tantissimo voleva diventare giornalista proprio formalmente e quindi l'ho fatto iscrivere dopo un certo numero di articoli all'ordine come pubblicista lui era felice come un bambino e festeggiamolo andando al ristorante trussardi che allora andava per la maggiore e lì abbiamo festeggiato il rapporto era di amicizia di amicizia assolutamente si beveva anche a lui piaceva il whisky scozzese ovviamente ma che poi gli piaceva ma ne beveva un dito era comunque presidente assolutamente una buona abitudine da preservare assolutamente a proposito di presidenti quest'anno elezioni in America crede che Trump diventerà nuovamente presidente che opinione è? non sono un indovino io ho fatto tanti mestieri nella mia vita tranne il profeta per cui voglio cominciare le farebbe piacere se tornasse a essere presidente poniamola così diciamo che non me ne frega niente questo mi sembra questa è la cosa più sincera poi tra Trump e Biden preferisco Trump dei due se devo scegliere ne uno certo evidentemente direttore tra le sue grandi passioni abbiamo parlato prima degli animali ci sono anche le donne ha vissuto molto la mondanità mi incuriosiva un concetto che hai espresso in più interviste sul matrimonio il matrimonio è un po' in decadimento comunque l'amore eterno necessariamente può diciamo che il matrimonio è la prima causa di divorzio quindi no condizia sine qua non questo è un po' come è sicuro dopo di che però cosa c'è al posto del matrimonio non c'è niente certo ma si combatte con la diversificazione quella di cui le parlava beh diversificare non è una cosa così grave è il tradimento che è brutto no perché più uno dice tradire viene in mente un cortello conficcato tra le scapole invece un concetto più forte che differenza c'è esprimiamola tra il tradimento la differenza è che tu fai una cosa perché ti piace in quel momento ma non è che commetti un atto sadico certo sono sopravvalutate anche le cosiddette corna mentre diversificare anche in finanza diversificare un portafoglio vuol dire rischiare meno sì ma poi è più divertente direttore è un gioco che in realtà nasce da un suo libro buoni o cattivi in cui dava le pagelle da 1 a 10 come a scuola dei personaggi noti molto divertente vorrei replicarlo oggi un po' con personaggi più contemporanei o d'attualità se le va quindi da un voto da 1 a 10 mi giustifica il voto che ha dato a questi personaggi beh vediamo un po' il primo personaggio è Greta Thunberg che voto le dà? insufficienza perché non è andata a scuola quindi non posso promuovere necessariamente vediamo un 4 sì ma anche 5 di incoraggiamento perché possa continuare a studiare di Fedez invece che è conosciuto Fedez darei 6 più 6 più come mai? perché lo conosco non è Einstein però non è neanche quel cretino che costano dice per cui la sufficienza la merita senz'altro Mattarella come Presidente della Repubblica? Mattarella diciamo è un classico senza voto perché non ricordo il suo gesto diciamo che mi abbia impressionato entrato all'avantese nel bene o nel male proprio no tuttavia non è sicuramente una persona disprezzabile Salvini Matteo Salvini? Salvini per lungo tempo è stato ottimo perché ha portato il partito dal 4% al 34% nelle elezioni politiche le europee le ultime quindi uno che fa un'operazione del genere stupido non può essere quindi sicuramente lì merita un voto alto dopodiché le ha sbagliate tutte e vedo che anche oggi continua ogni giorno e dovendo fare una media? e la media la porti all'insufficienza Papa Francesco qui secondo me terrenominato Papa Francesco non posso dire che mi sia simpatico ma io non sono cattolico non sono credente per cui di quello che dice il Papa non mi importa niente Pincezzo De Luca che è conosciuto da pochi giorni quello mi è sempre stato simpaticissimo mi darei un nove pieno sembra Totò un bel piglio poi secondo me c'è anche il tratto comune entrambi siete dei grandi personaggi di Crozza quindi tra personaggi di Crozza c'è simpatia con Crozza c'è una cosa divertente da dire che io quando lo vedo mi diverto rido come se non fossi io non dici una parola che io abbia mai pensato nella vita certo io sono conto il Meridione fa ridere ci ho vissuto e parla anche mezza napoletana possiamo dire io parlo di Burg io lo sa ci parla perfettamente voi siete napoletano io so io posso favorire la scelta napoletana che bellezza potremmo fare un teatro facciamo tutto quanto le interviste e vai continuiamo così direttore che bellezza una donna do Carmen a canzone dice pulisse che erano non posso andare oltre perché non sono napoletano ma l'ultimo nome della pagella è Gian Piero anzi il penultimo Gian Piero Gasperini suo allenatore dell'Atalanta anche se non è a quello do dieci dieci perché ha preso in eredità una squadra che era scalcinata parliamoci e con percassi che è il presidente intelligentissimo l'hanno portata a livelli altissimi tanto che è quarta in classifica anche questa poi da anni da anni ormai quindi veramente percassi poi l'ho conosciuto Gasperini è anche una persona simpatica sì sì poi io sono giuventino quindi anche ha un passato lui da giuventino come no unisce entrambi l'ultimo passaggio è che la pagella la facciamo anche su Vittorio Feltri che voto si dà da giornalista ma da giornalista mi do sette sette è comunque una risultati non potrebbe autocelebrarsi io non voglio autocelebrarsi ma i risultati sono evidenti raddoppiato ricordiamo l'evento sempre grazie a Sanculo sempre grazie a Sanculo da padre che voto si dà tutti i miei figli sono persone per bene lavorano si comportano bene per cui a giudicare dei risultati almeno non sei più me lo merito sempre andandoci piano ma comunque con soddisfazione sì da scrittore che voto dà la sua penna non lo so con sincerità non lo sa da fumatore che voto si dà io voto altissimo perché fumo più che posso con costanza sempre ho visto che ce l'è anche qui sul tavolo sì sì non l'ho accesa perché no no una volta mi è capitato in televisione di accendere la singola letta ma non si può in televisione ma io sono a casa mia e faccio il cazzo che voglio sacro santo per me può fumare con grande serenità si senta libero cosa vorrebbe che si dicessi di lei negli anni vero che la memoria lascia il tempo che trova però cosa le piace che l'Italia pensi di Vittorio Feltri no me ne frega niente me ne frega niente sacro santo pensiamo quello che voglio un ultimo passaggio lei non crede in Dio no e questo me l'ha detto no ma non riesco no certo questo mi trova mi trova peraltro un punto comune c'è qualcosa in cui crede non di spirituale nella realtà dei fatti una verità che ha compreso qualcosa che ha capito anche degli italiani banalmente ma io direi che la generosità la generosità sì mi pare una cosa migliore io cerco di esserlo poi però non dico perché questo è molto sano la ringrazio è stato generoso con noi se non altro ad ospitarci a casa sua è stato un grande piacere direttore per me è un privilegio grazie a voi la ringrazio gentilissimo questa è la Gintoria Podcast amici a casa del direttore Vittorio Feltri continuate a seguirci grazie mille direttore di niente adesso è una sera mi vado solo a rompermi i coglioni spero sia divertito più con noi che con la trasmissione la ringrazio